Salve, sono Antonietta Loscalzo, presidente della cooperativa LL Punto dal 2007. La cooperativa LL Punto, vi racconto qualcosa rispetto a questa cooperativa perché ha una storia particolare. È nata nel 1980 per il superamento dell'ospedale psichiatrico Santa Maria della Pietà, un ospedale psichiatrico che si trova a Montemario. I studenti neolaureati si sono associati per aiutare, dare una mano. In quel periodo c'era molto fervore rispetto al fatto di acquisire quei diritti di cittadinanza e quei diritti rispetto alle persone che avevano una disabilità psichica, che avevano vissuto tutta una vita all'interno di un ospedale completamente chiuso. Da quel momento ci siamo occupati di riabilitazione psichiatrica, di avviare strutture nel territorio. Soprattutto abbiamo collaborato con il servizio pubblico per l'avvio di strutture territoriali all'interno della città di Roma. Sono passati tanti anni. Attualmente la cooperativa, dopo 30 anni, ha acquisito delle capacità particolari anche per la conduzione di attività che nel corso degli anni si sono rivelate molto positive. Attività di tipo espressivo, attività di tipo terapeutico, attività di tipo riabilitativo e di attività anche preformative e di avviamento al lavoro. Tra queste attività ci sono anche delle attività che sono di tipo espressamente creativo, come la pittura, il teatro, oppure attività risocializzanti, come possono essere le attività sportive. Era impensabile, 30 anni fa, che delle persone che avevano un disagio mentale, un disagio psichico, potessero giocare in una squadra di calcetto, potessero far parte di piccoli campionati, potessero recarsi in altre città italiane per giocare a pallone. Attualmente questo avviene. Avviene però seguendo dei percorsi graduali, avviene seguendo dei percorsi studiati, studiata ad hoc per ogni persona. Che cosa succede? Quando c'è un malessere psicologico, la persona tende a stare rinchiusa, ad isolarsi, a stare a casa. L'aiuto nostro, insieme sempre ai servizi sanitari, è quello di facilitare percorsi riabilitativi. Quindi aiutare la persona a uscire di casa, aiutare la famiglia a tollerare il peso della malattia, aiutare il servizio a fare e a studiare un percorso in più rispetto a quello che il servizio sanitario può garantire. Quindi noi lavoriamo all'interno di un territorio, all'interno del sociale, per cui conosciamo tutta la rete sociale e possiamo trovare delle opportunità che sono adeguate per ogni persona. Gli spazi di attività sono tutte molto interessanti perché sono degli spazi terapeutici all'interno del quale ognuno può esprimere il proprio disagio, può essere capito il proprio disagio, il proprio malessere può essere interpretato e si può restituire anche un senso alla persona che sta male. Spesso, che cosa succede? Che ogni persona, noi andiamo e saltiamo in qualche modo quella che è la soggettività di ogni persona. Ognuno di noi è fatto in maniera diversa rispetto agli altri. La soggettività va trattata in maniera soggettiva. Non c'è un intervento che può andare bene per tutti, ma la persona all'interno di un gruppo va trattata in maniera soggettiva. Questo non bisogna dimenticarlo perché se si dimentica questo vuol dire che arriveremo a degli interventi che sono uguali per tutti e non possono funzionare. Ci sono persone che hanno anche mantenuto, nonostante magari tanti anni di disabilità psichica e sofferenza psicologica hanno mantenuto molto vive delle capacità e delle potenzialità che vanno osservate, vanno esaltate, vanno valorizzate, proprio perché queste capacità gli consentono di rientrare nella società, di avviare un percorso abilitante per poter inserirsi con un ruolo sia all'interno della famiglia che all'interno della società. Possiamo citare degli esempi di persone che passavano le giornate rinchiuse in casa a letto. Dopo aver frequentato per anni una struttura intermedia, un'attività preformativa o un'attività anche di tipo riabilitativo, possiamo dire che queste persone hanno ripreso a guidare la macchina, a farsi carico della propria madre anziana per portarla a fare delle visite mediche, oppure a partecipare ad una gita o godere un'escursione in città, per cui riappropriarsi di tutto quel mondo e quei vissuti più gratificanti della vita che in qualche modo erano quasi persi. Noi nel corso di questi 30 anni abbiamo trattato e ci siamo in qualche modo adoperati a trattare vari tipi di patologie e di disabilità psichica. Oggi ci troviamo in un momento particolare, perché una serie di trasformazioni sociali hanno determinato nuovi malesseri. E questi nuovi malesseri vanno capiti, perché ci troviamo anche quando camminiamo, anche quando guidiamo la macchina, ci troviamo a subire in qualche modo delle violenze e delle sfide che ci vengono in qualche modo fatte da altri autisti che dobbiamo capire che siamo arrivati ad una forma di malessere generalizzato che bisogna in qualche modo interpretare. I ragazzi di oggi hanno una particolare tendenza a sfidare le regole. Le regole sono importanti, le regole creano quel vivere, quell'equilibrio per vivere nella società. Quindi questo malessere potrebbe portare ad altre forme di patologie. Ci troviamo di fronte alle dipendenze attualmente, le dipendenze dal cibo, dalla droga, da internet. Sono malesseri che dieci anni fa non c'erano. Quindi attualmente ci troviamo di fronte ad una fase che richiede maggior studio e approfondimento rispetto a queste nuove patologie che stanno emergendo in questo momento storico. Possiamo anche parlare che la disabilità psichica genera molto sofferenza. Chi è portatore di un disagio psichico soffre. Si comporta in un certo modo non perché è cattivo, si comporta in un certo modo perché c'è una tendenza a dire delle cose. Spesso questo linguaggio che il disabile psichico usa non viene capito. Stare in una società civile significa poter capire tutte le varie forme di disabilità. Sicuramente non siamo tutti esperti, però se approfondire alcune tematiche significa poter essere un po' più tolleranti verso chi prova una serie di sofferenze. Spesso la sofferenza psichica, proprio perché non viene capita, porta all'isolamento. L'isolamento per lungo tempo genera esclusione. Spesso sono persone che vengono escluse dalla rete familiare e parenterale, spesso vengono escluse da quelle che sono i cicli anche di trasformazione. La sofferenza psichica non è sempre uguale. Nel corso della vita si trasforma, cambia. E poter avere vicino qualcuno che capisce questo tipo di cambiamento e di sofferenza può essere di grande aiuto e di grande sostegno, proprio per poter affrontare la situazione in maniera più incoraggiante, più positiva rispetto all'abbandono. L'abbandono è qualcosa di tremendo rispetto a chi ha un disagio psicologico. L'abbandono vuol dire non uscirne più, non poterne uscire più. Sicuramente siamo in una fase che dobbiamo riflettere. Dobbiamo riflettere come andare avanti e dobbiamo riflettere anche come affrontare queste nuove forme di malessere che si stanno esprimendo in questi ultimi anni. Non sarà facile perché nessuno forse è ben preparato. Occorre studiare, occorre vedere. Questa è una responsabilità di tutti, una responsabilità di esperti, di politici e di tutti che forse devono incominciare a parlare fra di loro e trovare delle strade comuni per affrontare il problema. Tutto questo sicuramente non è semplice, però bisogna almeno tentare di farlo. Noi come cooperativa LL Punto offriamo una serie di servizi, anche dei progetti personalizzati a casa degli utenti, quindi ci potete contattare tranquillamente attraverso il sito www.ll.it ci potete contattare perché se laddove è possibile ci mettiamo in collegamento con i curanti, con il servizio che segue per poter anche entrare in quello che è il sistema di cura per poter dare una mano.